Ennesimo scippo politico evidentemente nei confronti della città di Siracusa e della provincia di Siracusa, in questo caso ad essere colpita anche la città di Carlentini. Come tutti ricorderanno il 10 settembre 2016 era stato finanziato per circa 6 milioni di euro il ponte sulla Taggia, dal momento che era stato chiuso al traffico perché i piloni che sorreggono il ponte avevano dimostrato di non essere in grado più di sopportare i pesi dei mezzi che passavano sul ponte. Qualche mese fa erano stati già tolti oltre 4 milioni di euro al ponte e io avevo denunciato quello che era successo ma tutti avevano assicurato che non era vero, che i soldi sarebbero rimasti. C'è stata anche una confusione di competenze fra il commissario di sesso idrogeologico e l'assessore alle infrastrutture che essendo ormai una sorta di padre nobile della provincia di Siracusa interviene su tutte le vicende che riguardano la nostra città. Però è chiaro che quello che io avevo detto si è concretizzato e il 14 gennaio il governo regionale ha provveduto a togliere, a scippare, ripeto politicamente parlando, l'ultimo finanziamento che rimaneva sul ponte di Taggia per un milione e venti. Questo significa che il ponte di Taggia rimarrà per sempre chiuso e questi orrendi piloni non verranno mai abbattuti, non sarà realizzato mai il nuovo ponte. Stesso discorso dica il sesso idrogeologico del centro di Carlentini che ha subito uno scippo politico, ripeto anche in questo caso politico, di 236 mila euro. E tutto ciò accade nel silenzio più assoluto da parte di tutti, non intervengono i partiti, non intervengono gli sindacati, non intervengono le associazioni di categorie. Per essere chiara, la provincia di Siracusa ormai è la capitale delle tre famose scimmiette, cioè quelle che non vedevano, quelle che non ascoltano e di conseguenza quelle che non parlano. Io continuo a parlare, io continuo a difendere il mio territorio, io continuo a contestare l'azione di questo governo che ancora una volta sottrae risorse stanziate nella scorsa legislatura alla provincia di Siracusa per portarli in altri territori.